Pensate a sabato, quello che ci aspetta, vivete già la partita adesso, si vive, 5 minuti ma si vive adesso, lì, 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 rapido, 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 la mente deve essere rapida, la prepariamo oggi la mente, c'è l'elettricità, non toccate, rapido, 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 passo esterno, passo breve, passo breve, diamo, ecco ti Antoine, si, si Antoine, si, diamo, diamo Paolo, short step, short step, si, bravo Gianluca